Dopo la fine della quarta guerra mondiale, o della sesta secondo la cronologia degli storici, la potenza e la capacità di sterminio delle armi nucleari era aumentata. Ormai era stato raggiunto il punto di saturazione, la pace quindi doveva durare per sempre. Ma gli uomini non sono angeli, sono soltanto degli esseri molto strani forniti di combattività. L'unica soluzione era di incanalare la violenza dell'uomo. Così l'assassinio fu legalizzato su basi strettamente individuali e solo per coloro che lo richiedevano, vittime e cacciatori. Fu così, che nacque l'istituto della Grande Caccia. La guerra era tornata là dove era nata, nelle mani degli individui. E per ogni individuo il traguardo più ambito era la decima vittima. La guerra era di un'esercizio, non erano in un'esercizio. E per ogni individuo il traguardo più dell'esercizio. E per ogni individuo il traguardo più a la città. La guerra era di un'esercizio. E per ogni individuo il traguardo più Oh, 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 oh